Vediamo anche un altro aspetto importante su cui bisogna indagare. La filosofia di Nietzsche è una filosofia nazista perché vedremo che Nietzsche è stato affiancato al nazismo. Teniamo però in considerazione che Nietzsche è morto nel 1900, quindi il nazismo c'erano già qualche sentore, comunque la Germania era una Germania già, l'Austria eccetera, erano già antisemite, c'erano già dei sentimenti antisemitici, però comunque non c'era ancora la campagna nazista, non c'era ancora la seconda guerra mondiale. Perché è stato affiancato? Beh sostanzialmente perché quello che si ritiene più probabile è sia il fatto che la sorella Elisabeth, diciamo che la principale imputata è la sorella Elisabeth, che aveva dei pensieri sicuramente filo nazisti, stava anche, l'abbiamo visto prima, con una persona antisemita e con delle mire un po' naziste e quindi che cosa ha fatto? La sorella, che era la curatrice delle opere, che si occupò poi dopo la sua morte di promulgarle, di promuoverle, che la principale accusa è la sorella Elisabeth ha volutamente affiancato il superuomo, che vedremo poi essere il punto vocale della filosofia di Nietzsche, al nazismo. Diciamo che però poi ci sono anche altri pensatori che dicono sì però la sorella Elisabeth è stato semplicemente un caprio espiatorio di questa situazione, perché se Nietzsche avesse parlato di altro, dei fiorellini nel campo o di altre questioni, perché molti filosofi hanno parlato di altro, non so, mi viene in mente Socrate con io so di non sapere, diciamo che è un po' più difficile riuscirlo ad affiancare ad un pensiero nazista, invece il superuomo è stato molto affiancato alla razza ariana, alla propaganda nazista, al pensiero appunto che la razza ariana fosse una razza di superuomini, quindi di persone oltre gli altri uomini. Quindi in realtà la sorella Elisabeth è stata un po' un caprio espiatorio di un insieme di fattori, non si può neanche dire che Nietzsche era un nazista, ma sicuramente il suo pensiero ha dato vita ad un pensiero che poteva andare verso il nazismo. E ve lo spiego con le parole di Ernst Nolte, che ha spiegato proprio molto bene questo punto. Senza taluni aspetti della filosofia di Nietzsche, il nazismo non sarebbe divenuto ciò che fu, più di quanto il movimento operaio non sarebbe stato ciò che è stato senza il marxismo. Quindi qua è un po' la riflessione se è nato prima l'uovo o la gallina, ok? Il punto chiave è che la filosofia di Nietzsche è nata prima della pensiero nazista, quindi in realtà chi è stato influenzato da chi? Cioè è stato il pensiero nazista che è stato influenzato da Nietzsche perché lo ha interpretato in quel modo, non che Nietzsche fosse filo nazista. È un po' come dire, io ti do il telefono senza fili, no? Cioè io parlo con te, ti lancio un messaggio, ma non è detto che tu capisca quello che poi è stato, ti ho tramandato. Anche per esempio, pensiamo alla Bibbia, ci sono state tante interpretazioni di alcuni versetti della Bibbia, perché dipende da come sono stati analizzati, da come sono stati contestualizzati. Ecco che qui è importante sottolineare che è vero che la sorella Elisabeth ha avuto un ruolo importante in questa faccenda, cioè nel fatto di affiancare Nietzsche, anche perché poi a un certo punto Hitler era andato a far visita al museo, e quindi aveva fatto un po' di propaganda, aveva volutamente affiancato la sua figura con quella di Nietzsche, però è anche vero che prima è nata la filosofia di Nietzsche, poi è nato il pensiero nazista, che poi anche lì bisogna vedere perché l'antisemitismo c'era già da tempo, c'era già da molto tempo, l'abbiamo visto anche con Freud nella biografia di Freud. Freud soffriva del pensiero antisemita sin da quando era giovane, quindi questo aspetto è importante, cioè non è che Nietzsche era un nazista, la filosofia di Nietzsche, soprattutto per quanto riguarda il superuomo, può aver fatto pensare che il suo pensiero fosse nazista, questo sì, però c'è stato negli anni un po' di, diciamo, una denazificazione della filosofia di Nietzsche, e adesso addirittura in passato non veniva insegnato Nietzsche, proprio perché anche in Germania, penso, lo si affiancava a quel periodo storico terribile, e invece in realtà vedrete che dipende sempre dall'occhio, dall'occhiale con il quale tu guardi le cose, e evidentemente loro l'avevano visto con i loro occhiali e con il loro punto di vista, ok? C'è comunque da rilevare che, ripeto, Socrate con, io so di non sapere, era difficile da affiancare ad un pensiero nazista. Alcuni pensieri, alcune parti della filosofia di Nietzsche comunque rilevano o lasciano e vincere un tratto antidemocratico e anti-egualitario da parte di Nietzsche, quindi comunque si è prestato ad un pensiero che poteva essere ambiguo e preso e interpretato in modo magari molto diverso rispetto a quello che avrebbe voluto lui. Però lui non c'è più stato per poter dire la sua su questo fronte, perché è morto, tra l'altro con un'infermità mentale, quindi non era neanche più in grado di intendere di volere e dire la sua su questo fronte.